Piero Angelini è politico troppo scafato per non aver ponderato le posizioni delle parti politiche di centro prima di convocare l'assemblea di sabato prossimo alla sede di governare Lucca. E di fatti nel nebuloso percorso all'interno del PDL che dovrebbe portare alla presentazione del candidato alle prossime elezioni si cominciano ad intervedere le prime certezze. Se l'uomo scelto sarà il sindaco uscente Mauro Favilla non avrà l'appoggio della coalizione del 2007 infatti i partiti che lo spinsero la vittoria nella precedente tornata si stanno gradatamente facendo da parte centro-destra che cade a pezzi per motivi in buona parte non derivati dall'operato della giunta Favilla. Infatti la Lega Nord correrà autonomamente in tutta Italia, Lucca compresa, ed i partiti del terzo polo ad eccezione dell'Udc si trovano nella condizione di primi risconti elettorali dopo svariate frammentazioni. Nei giorni scorsi l'Udc pareva orientato comunque a sostenere Favilla e adesso seguito all'impegno dell'estate scorza, poi ad un tratto l'accelerazione in direzione opposta. Anche in questo caso non si può trascurare la scena nazionale e le logiche di pretito a seguito della caduta del governo Berlusconi e soprattutto di quello Monti, col Parlamento, ad eccezione della Lega, a sostenere il governo tecnico. Una situazione italiana dà adesso mai più per i pretiti moderati di centro, che oggi più che mai hanno la possibilità di rompere il bipolarismo. Tutto questo ci consegna un quadro locale che è direttamente specchio della politica romana. Ecco che l'invito al dialogo posto da Angelini a tutte le sigle di centro è potenzialmente un'operazione da 18-20% dell'elettorato, che qualora dovesse esprimere un nome forte potrebbe aumentare ulteriormente la propria base elettorale. Insomma, il vecchio lupo perde il pelo ma non il vizio. Dopo aver proposto a Favilla nel 2007 e compattato il centro-destra portandola alla vittoria, oggi cerca il nome nuovo da portare al centro per provare a fare a meno del PDL e portare a casa le elezioni. Difficile ma non impossibile.